La leggo in bocca al bambino, le ho chiesto scusa, le ho detto no ma va bene così, perché la mi dice no, l'avrei mandato via, io stai. La leggo in bocca al bambino, le ho chiesto, non ho sposto a sé, le ho chiesto, le ho chiesto, ma si va a andare, ma non ho chiesto, ma non ho chiesto, ma ci sono il senso, ma non ho chiesto, più corti si fa il bifo 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 ma che ha il capello il capello dimmi ma che dici ecco figlia pelino uuuu si fa il bifo si fa il bifo è ancora piccola vediamo la pia almeno 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 si 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 oh in effetti ci sono la maggior parte delle gare ci si 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 você però doveva fermarsi lì ah è vero tu mi ne ero accorto è vero è vero non l'avevo vista per quello che ti ho detto eh sì vedi che però lei eh però lei non ha continuato a lavorare ha fermato i cittadini e l'ha ripresa ma è che a me non piace non c'è non c'è non c'è ma non c'è non c'è non c'è ma non c'è è che non c'è però Sì, ora non c'è stato. ma che special star la città Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.